Il risultato è la cosa che conta di più. Abbiamo offerto delle ottime prestazioni, non siamo riusciti a finalizzare la mole di gioco prodotta. E qua dobbiamo fare un esame di coscienza noi giocatori perché alla fine ci sono stati parecchi errori individuali e dobbiamo partire da questo, lavorare su questo, lavorare su quella che è la nostra attenzione durante la gara. Ma sono molto fiducioso perché credo nei miei compagni e credo nel lavoro che sta facendo il mister. Io sono uno che non crede alla fortuna e alla sfortuna nel calcio. Credo che se vuoi qualcosa te la devi andare a prendere con grande impegno e grande ferocia. Forse siamo mancati un po' in questo e qua dobbiamo fare una mia colpa noi. Dobbiamo tirare fuori qualcosa in più, qualcosa di più concreto per far sì che gli episodi si volgano a nostro favore. Senza tanti se, senza tanti ma, è solo questo. Ma io credo che si sia visto già del buono del lavoro del mister. La squadra in campo sta bene, ripeto, il gioco c'è, l'impostazione c'è. Dobbiamo migliorare negli episodi e mettere quell'attenzione in più che ci permetta, ti ripeto, di volgere gli episodi a nostro favore.